John Borne ragazzi, John Borne, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti al quarto di finale e guardate chi si affronta oggi qui vicino a me, Kinoshi Ciao a tutti T'ho visto un po' frizzato, eri tipo... No, perché di solito quando fai così è sempre il contrario di quello che vedo io, quindi ho detto boh magari... Infatti a me esce che sono io E invece no, perché tu sei qui sotto, G7 Ciao ragazzi, ciao a tutti Allora, allora, sono molto curioso perché voi fino a questo momento avete fatto un ottimo percorso avete fatto il vostro ottavo di finale avete eliminato, Kinoshi ha eliminato Talox, mentre Gianni ha eliminato Gaboman quindi insomma avete eliminato due possibili papabili vincitori anche se poi Gianni è una new entry, quindi non lo conosciamo per questi tornei mentre Kino è il vincitore uscente dell'ultimo torneo quindi diciamo che era un po' un quadretto molto particolare e oggi capiremo quale sarà il futuro di questo quadretto particolare per chi andrà a giocarsi la semifinale prima di iniziare vi ricordo che in descrizione trovate sia il canale di Gianni che il canale di Kino quindi se vi piacciono i contenuti potete iscrivervi e seguire chiaramente tutti i contenuti del caso vi ricordo anche, insomma, qualora non l'aveste già fatto di lasciare mi piace a questo contenuto allora, detto ciò partiamo a bomba tanto ormai sapete come funziona, no? semplicemente dovete trovare il giocatore, anzi la squadra che unisce i quattro calciatori individuate questa squadra e appunto potrete fare punti sapete come funziona, avete già giocato, il passaggio eccetera non ci sono nuove regole, quindi io direi di partire subito e vi domando tra di voi, chi vuole partire? caccio il tappo dai caccio il tappo caccio il tappo caccio il tappo allora, questo è Gianni e questo è Kino ok scato per terra Gianni parte Gianni siete pronti? ok vai mamma mia raga ora voglio vedere partiamo subito così con il primo pack per Gianni e si parte subito con uno che ne ha fatte pochissimi di squadra mamma mia Pablo Daniel Osvaldo qua ti devo chiedere per forza un'altra faccia sì, ricordiamo ricordiamo mentre ti do la seconda faccia che ai ragazzi a casa che loro possono o chiedere un'altra faccia e quindi sciupare un punto quindi da 4, 3, 2, 1 oppure rischiare quattro punti ma se sbagliano passa all'avversario vede una faccia in più e si passa sciupando un punto lo stesso Riccardo Montolivo oddio e qua mi hai spiazzato perché Osvaldo ne ha fatte tante ma non mi vengono in mente le squadre in comune che ha con Montolivo e invece ti dico che a memoria per me ci sono almeno due secondo me ma non lo so non lo so potrei sbagliare questa analisi qua ok, ti chiedo un'altra faccia ci chiederei subito la terza faccia che è Bonaventura Bonaventura fa venire in mente Fiorentina e Milan come Montolivo fa venire in mente Fiorentina e Milan ma io Osvaldo non me lo ricordo al Milan potrebbe essere stato la Fiorentina non lo so Atalanta Bonaventura è stato tipo anche al Pergocrema Bonaventura però non penso perché sai che Bonaventura è stato al Pergocrema scusa non lo so ho questo ricordo di di aver letto la carriera di Bonaventura con l'inizio al Pergocrema mi verrebbe da dire Fiorentina però non lo so vai ti dico Fiorentina allora ti faccio vedere la quarta faccia che si vede una merda ma di foto migliori non ne avevo che è Ventola che è Ventola e ti dico che non è la Fiorentina Cassarola però ti dico che tutte e tre hanno già dato la Fiorentina tutte e tre hanno già dato la Fiorentina Osvaldo e la Fiorentina non me lo ricordo proprio ci ha giocato ci ha giocato però effettivamente io avevo lo stesso la stessa situazione e sicuramente Ventola che comunque ha giocato tanti anni fa e magari lo accosti all'Inter o quant'altro non dà una una grandissima mano obiettivamente perché tanto anche Montolivo aveva fatto giustamente il Milan l'Atalanta dico ma non so magari per una questione come l'altra volta che hanno fatto hanno fatto magari un anno quando era giovane con due presenze come mi era capitata la scorsa volta e non me lo ricordavo e può essere ma chi è questo? Quale calciatore di questi quattro? Tutti la squadra no no dico chi ha fatto due presenze e non te lo ricordavi tutti o cioè ti ricordi qualcuno eh no Montolivo Montolivo personalmente Montolivo ma tu ti ricordi io Svaldo all'Atalanta? no top allora guarda ti dico che Adani ha giocato all'Atalanta senza cioè è stato di proprietà dell'Atalanta senza mai scendere Adani scusa Adani cosa c'entra? Ventola Ventola si ciao Adani Ventola è stato di proprietà dell'Atalanta scusate Ventola è stato di proprietà dell'Atalanta e ve lo ricorderete Montolivo e Buonaventura escono entrambi dall'Atalanta Buonaventura ok Svaldo ha giocato all'Atalanta si è l'Atalanta bravo lui bravo non ve lo ricordo Montolivo ad esempio all'Atalanta Buonaventura ha fatto tanto all'Atalanta Buonaventura si ma il di caldo era Montolivo ma io Montolivo e Osvaldo zero Montolivo Montolivo ci ha giocato all'Atalanta è uscito proprio da quel settore Giovanni Lellì e calcola che tra il 2003 e il 2005 ha fatto 75 presenze solo in Serie A ma puoi controllare che è vero che Buonaventura è stato a Pergocrema secondo me è un mezzo punticino per Buonaventura a Pergocrema controllo ma non ti darò mezzo punticino va bene va bene allora vediamo Buonaventura è stato al Pergocrema allora io mi domando come sia possibile che tu non ti ricordi che Buonaventura ha fatto Giovanni Lell'Atalanta debutto all'Atalanta è andato al Pergocrema ha fatto 3 presenze è tornato all'Atalanta è andato al Padova è tornato all'Atalanta Buonaventura all'Atalanta ha fatto 127 presenze dal 2010 al 2014 e tu ti ricordavi il Pergocrema no ma mi ricordavo anche l'Atalanta di Buonaventura era sempre Osvaldo e molto vivo il problema allora siamo 1-0 per Kinoshi e adesso il pack di Kinoshi dimmi Giorginio ok però te ne chiedo un'altra ovviamente Rachmani lo vuoi dire allora eh ma perché c'è sempre il calippo si ma sta facendo il merda allora vabbè cacchio però considera vabbè ti chiedo il terzo dai faccio adesso ne metto un altro il terzo è Berami merda che pezzo di sterco allora però io faccio qui il gioco inverso mi sembra giusto dirlo però io ti dico minchia mi dici minchia allora perché se tu sai che metti un tifoso del Napoli solitamente non lo metti col rischio che magari capita a lui di solito quantomeno con me non l'hai mai fatto ok quindi però io ero un pochino più convinto dopo i primi due perché io non io ti dico comunque Verona però non lo so faccio vedere la quarta faccia che è Romulo ma ti posso dire una cosa io quando sono usciti Giorginio e Rachmani io non c'avevo neanche pensato al Napoli cioè il mio primo pensiero è stato il Verona è il Verona anche il mio solo che ho detto boh dai magari non lo so metti che però Berami al Verona non se lo ricordasse nessuno che cosa Berami al Verona io tipo non me lo ricordavo per quello l'ho messo per far dire Napoli eh certo però però due punti bravo Kino cioè due punti è fatto adesso quindi arrivi a tre punti totali l'ultimo era Romulo che ha giocato a Verona ma non ha mai giocato dappertutto ma non ha mai giocato a Napoli siamo 3 a 0 per Kino la palla torna a Gianni il pack di Gianni ve lo faccio vedere si parte con Cristiano Lucarelli pure ne ha fatte poche lui eh eh sì giusto una quarantina quelle granate le ha fatte tutte ti chiedo un'altra faccia Corini non aveva questa faccia quando giocava però non mi aiuti proprio per niente con Corini che Corini non mi ricordo mi pare abbia giocato al Milan non lo so non ho proprio idea non ti saprerevo dire un'altra faccia altra faccia Blerim Gemaili io adesso sono sono tentato a due squadre una però potrei fare lo stesso ragionamento di Kino insomma non lo so perché Corini non ho proprio proprio un voto totale c'è veramente zero 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 allora Gemaili io penso che alla fine la quarta faccia te la chiedo quindi adesso ragiono proprio ad alta voce Gemaili ha fatto il Bologna ha fatto il Napoli ok però è partito dal Torino ok è partito dal Torino io so questa cosa perché fece la tripletta contro il Torino i primi due gol non esultò e al terzo sì come un pazzo sì 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 per i primi due gol ti vuoi chiesti scusa al terzo impazzinco vincere a urlare come un pazzo 5-3 doppietta di Cavani Lucarelli mi pare abbia giocato al Torino anche se mi viene in mente Livorno Regina non lo so ti chiedo l'altra faccia la quarta faccia è Gallo Belotti eh Torino spero Torino Palermo non credo Roma vai Torino allora è il Torino è giusto è giusto mannaggia la miseria allora il Torino era tosta era tosta però ti dico io più che Torino prima di vedere Belotti avrei detto Parma perché comunque Corini credo abbia allenato il Parma o comunque anche se non ha allenato il Parma Corini ma vale anche chi ha allenato però mentalmente magari ti viene Lucarelli ci ha giocato a Parma me lo ricordo bene sì sì certo Gemayli ci ha giocato a Parma quindi ci stava però invece però poteva essere anche Napoli poteva essere anche Napoli Lucarelli e Gemayli hanno giocato entrambi a Napoli e non so se Corini abbia giocato a Napoli per questo ho detto faccio lo stesso ragionamento di Chino e invece ti dico che Corini ha giocato a Napoli incredibile e Corini ha giocato a Napoli incredibile allora la cosa bastarda di questi giochi è questa qui che ce ne sono magari due tre come che mi ha cacciato l'altro giorno tutti quelli della Sampdoria poi sono vergognati vergognati allora vediamo adesso se sapete questa siamo tre a uno per Chino però c'è il pack di Chino allora andiamo a vederlo subito si parte da Frattesi ok e vabbè ti chiedo l'altra Politano che anche qui dici potenzialmente no quindi c'è il punto di prima quante squadre ci sono in cui hanno giocato io ce ne ho tre eh 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 e ti chiedo vabbè la terza immagine Scamacca ok io ce l'ho di regola eh allora ti dico Roma bravo mi dici Roma perché tu ce l'hai di regola è perché penso che sia penso che sia la Roma poteva essere anche parti tutti quanti dalla Roma poteva essere anche un'altra squadra giusto eh poteva essere Sassuolo poteva essere Sassuolo sì e a meno che Scamacca non abbia fatto giovanili all'Inter poteva essere anche l'Inter ma non credo poteva essere anche poteva essere anche l'Inter ma non penso se Scamacca non lo so ti faccio vedere il quarto che è Caprari è la Roma 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 bravo bravo 5 a 1 per Chino bravo è la Roma comunque ti rendi conto che avevamo Politano Frattesi e Scamacca in primavera mannaggia a noi mamma mia che nervoso e comunque comunque questa mi fa rimangiare quella volta che alla fine c'erano Podorski Zagnolo e un altro ti ho detto Inter era il Galatasaray no no vabbè ma lì eri ancora inesperto nel gioco allora 5 a 1 per Chino pack di Gianni pack numero 3 Zaccardo qua pure possono essere pochi vai vai dammi un'altra faccia Dzeko ok allora su Dzeko si può ragionare già un po' di più adesso mi sta venendo in mente che secondo me tu hai fatto sta cattiveria di mettere una squadra in questo caso non italiana e mi viene in mente io vorrei quasi rischiare perché comunque chi non risica non rusica innanzitutto e secondo me però secondo me mi conviene rischiare anche con la terza faccia ok vuoi vedere la terza faccia? vai fammi vedere la terza faccia Kier secondo me Kier l'hai messo per farmi pensare alla Roma è dubito che tu abbia messo la Roma due volte di fila se l'hai fatto sei ancora più una schichifizza in passato è successo c'era l'Empoli due volte di fila c'era l'Empoli due volte di fila io in questo momento sto pensando che magari Kier e Zaccardo possano essere passati al Wolfsburg dove è stato Dzeko che tu volevi già dire prima giusto per tre punti che io volevo già dire prima che io volevo già dire prima che Kier in Italia ha fatto Atalanta che Dzeko non ha fatto il Milan che Dzeko non ha fatto la Roma che Dzeko ha fatto non so se Zaccardo Zaccardo ha fatto il Milan sicuramente sto dicendo una stupidaggine mi pare di sì vabbè in ogni caso Zaccardo alla Roma non lo so può essere che sia partito dalla Roma io ti dico vai Wolfsburg vai ti faccio vedere la quarta faccia che è Barzagli vai dai è il Wolfsburg è il Wolfsburg due punti potevi anche prenderne tre potevi anche prenderne tre eh sì bravo comunque bravo non era semplice perché sono tutti giocatori ai quali non pensi se appunto vai a pensare al Wolfsburg comunque siamo 5 a 3 per Kinoshi detto questo adesso vi faccio vedere il pack di Kino che parte da James Rodriguez ok ma vabbè Napoli chiedo la seconda fa il cavo ti chiedo la terza poi la provo se Otamendi tu vai di Porto sì tu Gianni saresti andato di Porto inizialmente avrei detto beh siamo una coca atletico Madrid però probabilmente probabilmente è il Porto subito avanti in verticale vi faccio vedere la faccia la quarta il pack quarto pack di Gianni e si parte dal Diego Perotti Perotti pure una fatta di squadra anche se su Perotti sono abbastanza impreparato su quello che ha fatto all'estero se ha fatto qualcosa all'estero non lo so sicuramente sarà partita dall'Argentina vai ti chiedo un'altra faccia sì la seconda faccia è Medel e adesso mi ha messo in difficoltà perché oddio vai dammi un'altra faccia Luis Alberto qui più metto faccia è sempre peggio non mi ricordo la squadra da cui è partito Luis Alberto ma Michele Michele Valencia non mi ricordo se è il Valencia potrebbe essere il Valencia mi sembra sensato Perotti è il Valencia Medel non me lo ricordo mi sembra Valencia ti dico Valencia forse la sto buttando proprio completamente a caso ti faccio vedere la quarta faccia che è Iago Aspas ti dico che non è Valencia e passo la pallacchino eh eh ah è quell'altra mannaggia penso non lo so non lo so non lo so anche perché guardi ti dico il Celta però penso a sto punto anche io giusto per Iago Aspas sinceramente è il Siviglia eh mannaggia sono tutti passati dal Siviglia questi qua Medel neanche per sbaglio ma gli altri proprio ciao a proposito di giocatori scarsi Andreolli poverino bello Andreolli bello Andreolli tocca sì te ne chiedo un'altra Crisetig un'idea ce l'ho Beatote l'ho fatta io e io non ce l'ho un'idea ti chiedo la terza immagine assolutamente sì però che è Cargiat potrebbero essere due squadre porca miseria io scelgo come te la butti in cacciara eh Parma perché mi dici Parma perché me li ricordo i primi due il terzo non so chi sia io io avevo quella è ancora un'altra che tra poco me la dirai ti faccio vedere la faccia che è Kuzmanovic Inter è l'Inter è l'Inter tutte e quattro hanno giocato all'Inter non è eh sì Cargiat l'ho usato più volte su Tiki Taka To Andreolli me lo ricordo all'Inter è passato al Chivo eh all'Inter se non mi sbaglio eh Kuzmanovic è proprio il simbolo della banterera dell'Inter quindi vai ci sta allora siamo 7-4 però l'altra squadra che avevo pensato era il Parma quindi è corretto cioè ragionamento giustissimo io fino ai primi due ci stava anche credo il Bologna credo che sia credo in realtà credevo Parma e Bologna sono sincero ci stavano allora siamo al pack 4 attenzione perché siamo 7-4 per Kino adesso Gianni ha il suo pack e deve cercare di andare quasi all-in per non perdere ok non dico subito ma quasi all-in ti faccio vedere il primo nome ah vabbè ok Ciccio Tavano ah ok ok Ciccio Tavano non penso che tu abbia messo proprio il simbolo dell'Empoli mi pare che Ciccio Tavano abbia giocato all'Avellino e poi ci sta un'altra squadra che nel caso in cui dovessi sbagliare ma penso perché chi ne è preparato lo sappia non la dico però ti chiedo un'altra faccia Florenzi Florenzi Marò 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 perché ho il ricordo di Ciccio Tavano al Valencia perché mi è venuta questa cosa in mente perché penso che Ciccio Tavano abbia giocato al Valencia perché mi sto convincendo di questa cosa perché lo sto facendo Valencia vai ma non ci devo pensare Valencia ti faccio vedere la terza faccia che è Emiliano Moretti ok non so se ha giocato al Valencia e la quarta faccia è Cristiano Lucarelli e tutti e quattro hanno giocato nel Valencia clamoroso clamoroso sono tre punti è sette a sette e adesso il pack di Chino ovviamente lui può lasciarlo scorrere e però poi l'ultima faccia deve indovinare il quadro perché se no è comunque giusto 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 minchia bello è bello veramente bello è stata una bella partita bella partita ma poi minchia che che lui era capace di metterla a Roma qua con i primi due eh sì ok tocca a Chino siamo sette a sette ovviamente a Chino basta fare un punto per vincere la partita però se sbaglia si va allo spareggio o addirittura se rischia prima e passa il testimone e Gianni a zecca si va a far vincere Gianni quindi andiamo a vedere quello che succede vi faccio vedere la prima faccia Poli ok ok e ti chiedo la seconda Pasquale Foggia hai detto ignorante ma non pensavo così ignorante ma è ancora il direttore sportivo del Benevento sì sì però almeno la terza te la devo te la devo chiedere che effettivamente però però qui c'è un eccesso di fair play ma chiedile tutte e quattro ma sì non ti preoccupare ma no cioè alla fine dai anche bello con quel po' di brivido cioè me lo prendo adesso gli do la terza adesso gli do la terza saponara saponara però nel senso se non le sai chiedi la quarta pure cioè prendi tutte le te lo sei meritato di arrivare 7 a 7 con un pacco in meno no infatti sì infatti sì fatto un percorso c'è stato bravissimo più che altro qui se lo faccio è perché proprio non ne idea perché anche saponara che sono perso allora saponara beh oddio ce l'hai ce ne sono un paio Poli saponara sicuramente però Foggia non penso Poli e saponara eh quell'altra forse Foggia invece l'ha fatta pure se chiederai la quarta faccia io provo io non te la chiedo la quarta faccia provo perché comunque mi è piaciuto anche in caso poi dovesse vincere lui solamente per il Valencia di prima è un piacere veramente attenzione allora se azzecchi con questi tre basta che io manco se poi ci avessero giocato per me sei sei un grande vai no veramente no più che altro perché Poli e saponara nella stessa nella stessa squadra io mi ricordo la Samp e il Milan però Foggia non penso abbia giocato al Milan ok quindi io ti dico la Samp ti faccio vedere la quarta faccia che è Mustafi e ti dico cazzo bravo è la Samp bravissimo è la Samp come diamine hai fatto io saponara manco me lo ricordo non mi ricordo non mi ricordo nessuno all'altrano solo Mustafi no saponara io Poli e la Samp me lo ricordo Poli e la Samp me lo ricordo saponara non me lo ricordo bravo bravo meritatissimo io saponara me lo ricordo Empoli Fiorentina Foggia al Cagliari Poli al Bologna sì no quello ci stava però infatti io facevo l'accostamento eh sì almeno di coppia perché poi il terzo è sempre quella variabile che magari l'ha fatta ma a chi si ricorda bravo davvero e Foggia al Milan no zero Samp perché no bravo bravo davvero bravo 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 ti sei appena meritato la semifinale grande tra l'altro questa secondo me finora è stata la sfida più bella in assoluto fatta in questo torneo quindi siete stati veramente tanto bravo questa mi è piaciuta sì bella veramente bella bella 9 a 7 ragazzi tanto di cappello a tutte e due e allora e allora è finita in un modo clamoroso ma io mi aspettavo quando ha detto la rischio ho detto mo sbaglia vede Mustafi Gianni e indovina Gianni perché Mustafi era proprio tanto indirizzato giuro giuro che se l'avesse che se l'avesse sbagliata non mi sarei preso il punto sarei andato allo spareggio per la correttezza anche perché era troppo bello allungarlo sarebbe stato ancora più bello ti avrebbe fatto onore allora Gianni lo rivedremo in un altro torneo mentre Chino lo vedremo in semifinale forse già vedrete a schermo contro chi o io non ve lo dico adesso i ragazzi lo sapranno ma se lo vedete a schermo bene se no aspettate e fremete io vi ringrazio a tutti e due per aver partecipato vi ricordo che in descrizione trovate il canale di Gianni il canale di Chino quindi dategli un'occhiata se i contenuti vi piacciono potete iscrivervi ai canali buo ciao all'allineo come sempre ci vediamo al prossimo video ciao